ben tornati qua da sanremo sempre dietro la nostra cara casa sia e ormai ci siamo quasi trasferiti qua siamo in compagnia di un cantatore italiano e appunto siamo con alessandro sipolo e ciao e appunto passai grazie passavi di qua per per casa sia e no avevi avevi da fare un paio di canzoni mi hanno detto qua esattamente tra tra qualche minuto dovrei esibirmi a casa sia e suonerò un paio di pezzi dell'album nuovo un altro equilibrio ottimo un altro equilibrio che è il tuo terzo album terzo album appunto che è uscito il 25 gennaio 2019 quindi poco tempo fa pochi giorni fa senti se tu dovessi descrivere in diciamo incasellare in un tipo di genere musicale il tuo album come lo classificheresti ma guarda faccio fatica a definirlo questo è anche il motivo per il quale non ho mai avuto ottimi rapporti con con i discografici diciamo che è difficile non sanno mai dove mettermi non sanno mai dove mettermi per fortuna adesso ho trovato due due etichette che hanno caduto nel progetto però sono un ascoltatore bulimico di musica e quindi cerco anche di rendere questa pluralità attraverso i generi che compongo anche questo disco come i precedenti è un disco che non ha un genere di particolare diciamo che dentro l'albero del cantautorato mi piace spaziare in generi e anche in continenti diversi beh sicuramente ascoltatore bulimico mi piace molto come 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 analisi nel secondo tuo il tuo secondo album ti avevano additato tra virgolette come eretico no spiegaci un pochino come mai per quello era un concept sul tema della disobbedienza si chiama eresie il mio secondo album e proprio nelle 11 canzoni cercavo di declinare il concetto di disobbedienza osservando da diversi punti di vista e quindi quella si era era la linea rossa che univa gli indici brani per questo motivo sono stato definito eretico appellativo che mi tengo molto volentieri senti tu sei bresciano ok com'è crescere con la musica a brescia perché brescia non è la tipica città che non si aspetta per la musica non è roma non è milano 12 vada a sfondare uno non va a sfondare a brescia di solito per la musica beh certo noi siamo periferia dell'impero però a parte gli scherzi brescia una scena da molti anni ormai direi da almeno un vent'anni una scena musicale molto vivace sicuramente è davvero vabbè basti ricordare mauro pagani leader della pfm piuttosto che i timoria e piuttosto che progetti recenti che io trovo molto interessanti però effettivamente io vivo in città da da poco tempo da cinque anni prima gravitavo più su milano e devo dire che ho trovato una scena musicale indipendente è molto viva vivida molto interessante quindi vivere da musicista a brescia oggi è davvero è davvero molto molto interessante sembra anche quasi piacevole da come lo descrivi la città che io promuovo molto volentieri perché si sta davvero bene assolutamente e senti abbiamo parlato del tuo terzo album c'è una traccia in questo album che ti piace di più cioè delle delle tracce che ci sono dentro c'è qualcosa che dice ok questo è alessandro non io te questo sono io questo mi rappresenta al cento per cento guarda io siccome scrivo molto ogni volta che devo pensare ad un disco che per me è un mondo a sé stante poi finisco per lavorare un po come come uno scultore no scremando e togliendo tutto ciò che è superfluo quindi quando poi sono arrivato a dieci brani dei circa venti che avevo composto questi per me sono tutti essenti tutti perfetti poi no non perfetti però diciamo tutti importanti ottimi per l'album quello che descrive di più il contenuto del che sintetizza il contenuto dell'album questo tipo di prospettiva è l'ultimo brano che è un brano un brano ispirato a un libro che amo molto che è il mito di Sissifo di Camus in quel in quel brano che si appunto si sintetizza un po la poetica di tutto il disco assolutamente e progetti futuri tour comunque concerti qualcosa che ci vuole spoilerare qualcosa qualcosa in barca è appena è appena iniziato il tour quindi siamo ovviamente tutti e dico parlo al plurale perché c'è la band il management tutti quanti siamo focalizzati sul tour è iniziato a brescia ed è andata molto bene in latteria molloi il 23 saremo a roma il 27 all'off di torino il 3 al teatro fronderia di verona si comincia a girare l'italia e quando finalmente si arriva al momento dei concerti tutta l'energia è focalizzata lì assolutamente alessandro che dire grazie per essere stato con noi e sicuramente ti aspettiamo in radio speriamo di vederti molto presto molto volentieri e quindi buon proseguimento grazie mille grazie grazie ciao 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 radio bocconi ciao 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 ciao